Allora ragazzi, preparando questa importantissima gara di ritorno dei quarti d'Europa Liga con il Feyenoord, noi dobbiamo capire molto bene due cose. La prima cosa è che la partita con l'Udinese, bisogna dirlo chiaramente, non conta un cazzo. Questo bisogna che vi entra in testa. Il Napoli e il Milan fanno un ampio turnover, giustamente, perché pensano alla Coppa, perché è questo che conta per loro oggi e è questo che conta anche per noi oggi. Oggi dobbiamo pensare ad andare avanti, abbiamo la possibilità di raggiungere le semifinali contro squadre che sono anche alla nostra portata. Questa è la prima cosa. La partita con l'Udinese è un allenamento. Mettiamocelo in testa e cerchiamo di evitare degli infortuni, ancora, perché qua ogni partita si infortuna qualcuno e non ci sarebbe assolutamente tempo per recuperare. E poi la seconda cosa, la più importante, io rivolgo un appello a tutti i tifosi della Roma che hanno la possibilità il giorno 20 di andare allo stadio a tifare per questa squadra. Noi, purtroppo, o meglio voi che siete allo stadio, in campo non ci possiamo andare e la palla non la possiamo colpire con i nostri piedi, però la possiamo colpire con il nostro cuore, se siamo tutti uniti ci dobbiamo inventare qualcosa. Ognuno porti uno striscione, ognuno porti una bandiera, ma soprattutto io voglio 60.000, 65.000, quello che sarete, persone che fischiano ogni volta che il Feyenoord tocca palla, ogni possesso di palla, devono essere subissati di fischi per 95 minuti, gli dobbiamo spaccare i timpani, li dobbiamo far andare in tilta quando hanno la palla. E questo lo possiamo fare anche senza andare in campo. Se facciamo girare questa idea, che sta girando anche sui social, se saremo tutti uniti, possiamo fare altro che i gonfiabili del decurve di Rotterdam. Fischiate, 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 come se non c'è fosse un domani, fischiate fino a perdere il fiato per 95 minuti, trasciniamo la Roma in semifinale.